sindaco di Iesi allora siamo alla fine di questo screening di tre giorni qui a Iesi come è andata credo che sia andata veramente bene un grazie all'asur agli operatori dell'asur ai volontari alla protezione civile ovviamente agli operatori del comune a tutti quelli che hanno partecipato sono anche della Croce Rossa e dell'ANFAS spero di non aver dimenticato nessuno però devo dire che è stata un'organizzazione perfetta e dobbiamo essere orgogliosi in questi casi del pubblico che che sa dare risposte importanti propedeutica molto probabilmente anche alle vaccinazioni questa organizzazione si ha perfettamente ragione credo che questa sia diciamo una prova generale poi per le vaccinazioni e credo che Iesi ha dato come credo sempre un'ottima risposta grazie 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 Grazie.